Ma addirittura Verstappen potrebbe diventare campione già dalla prossima gara a Singapore. Ma come? Innanzitutto deve vincere la gara e siglare il giro veloce, totalizzando un complessivo di 26 punti. E poi gli avversari, contemporaneamente, devono fare il loro. Ovvero Leclerc arriva a massimo all'ottavo posto e Perez al massimo al quarto posto. Cito anche Perez perché nella classifica generale dei piloti è terzo. Con questo scenario Leclerc al massimo potrebbe arrivare a pari punti con Max, ma comunque perdere il titolo perché a parità di punti la spunterebbe l'olandese per il maggior numero di vittorie dei GP nella stagione. Un altro possibile scenario nel vedere Max campione, sempre a Singapore, è se lui vince il Gran Premio senza giro veloce, ma con Leclerc al massimo nono e Perez al massimo quarto, entrambi senza giri veloci sul groppone. Troverete tutto il riassunto sul profilo Instagram e su Twitter una tabella. Basta digitare su questi social Formula Talk Podcast. Grazie a tutti!